Ciao a tutti e neacubisti, bentornati sul canale di Non Aperte Questo Blog Allora, voglio fare questo esperimento Mi piace comunque andare in giro a cercare per mercatini, negozi, negozietti, eccetera Vari DVD, principalmente DVD, poi si ritrova anche in Blu-ray Horror in offerta In offerta cosa intendo? Veramente ha pochi soldi Ovviamente in condizioni decenti, senza graffi particolari O custodi distrutte Anche se poi le custodi si possono anche cambiare in alcuni casi Sono stato a fare uno dei miei giretti E ho trovato 5 film horror a 1,90€ all'uno Non vi dirò dove Perché i posti sono segreti Ve li dovete trovare da soli Pozzietti, che ne so, videoteche che chiudono Ormai anche sono chiuse tutte le videoteche Quindi dopo la sigla vi farò vedere che film ho trovato Ma prima vi voglio ricordare che dovete assolutamente iscrivervi al canale Cliccare sulla campanella per ricevere tutti i video Mettere like Così a prescindere Questo era l'ultimo pezzo di ESA Anzi, l'ultimo pezzo degli OTR con ESA Il vero rap Lo trovate su YouTube Vi metto il link sotto Ho deciso di fare la sigla dedicata a ESA e il Prez Il Presidente Perché è incredibile C'è una roba da non credere Si ritira dalle scene del rap Nel senso come rapper Ha fatto un annuncio E un po' mi sciocca questa cosa Perché Insomma Mi fa sentire più vecchio Comunque bella Prez Torniamo all'horror Film Il film che ho trovato ragazzi Adesso io ve li faccio vedere velocemente Allora intanto Cioè io pensavo di andare tipo In questo posto che ho trovato E trovare tipo Che ne so Dei film bruttissimi Non lo so Tipo Rakatak No Roba del genere E invece Tipo vabbè Rakatak Adesso non me lo ricordo neanche più Ho trovato dei film Che praticamente ho anche visto Ma non mi li Cioè è passato talmente tanto Che neanche me li ricordo Cioè Classicone Vediamo perché c'ho la luce Che mi fa Un mega riflesso Beh Le gruge È un classico Oh In perfette condizioni ragazzi Cioè Non so come dire Che luce Proprio Spettacolare Perfette condizioni 1,90 euro Con la mitica Buffy Ammazzavampiri Questa era l'ondata In cui Hollywood rifaceva Tutti i film Asiatici Horror Con fantasmi Mica fantasmi Presenze Eccetera Poi c'è The Exorcism of Emily Rose Anche questo qua DVD Impeccabile Ah guardate qua Non me neanche guardate Che figata C'è un vecchio C'è un vecchio De Plihan Che sponsorizza Un po' di film Horror Sempre Fighissimo C'è una vecchia C'è una vecchia Della PSP Fatemi sapere Se li avete visti Cosa ne pensate Insomma Un po' di commenti Quando li avete visti Eccetera eccetera Parlare anche un po' di Quell'epoca Perché sono del Due C'è più o meno Questo qua sarà Del 2004 2005 Non mi ricordo Anche Cruz Quell'epoca lì Quindi sono passati Un po' di anni Poi c'è Ho trovato Questo I2 The I2 Insomma Quel filone lì Di morti Spirit Insomma Tutto oriental Insomma C'è stato Un grande Un grande momento Per cui Fin lì Adesso Hanno un po' Stufato Probabilmente E poi Comunque Secondo me Sono stati un po' Sostituiti Da quelli che sono stati Poi De Conjuring Insomma Hollywood ha imparato A fare Farli Questi film Con le presenze Però a farli anche meglio In un certo senso L'Esorcista La Genesi Tutti a 1,90 euro L'ho pagato 1,90 euro Non so Ditemi se mi hanno fregato Tutti in perfette condizioni E poi l'ultimo Anche questo Ditemi se l'avete visto La Genesi E poi l'ultimo Io Cioè Questa è veramente Una figata Io ho la collection Che sicuramente Vi linko In descrizione Di Nightmare Con tutti i Nightmare Per cui Dice che cazzate Ne fai Un altro Nightmare Però era troppo bella L'edizione a 1,90 euro Quindi ho preso Nightmare 5 Vedete In cartoncino Allora qua c'è ancora La carta Del prezzo Non l'ho tolta Perché è un lavoro Che voglio fare con calma Per non rovinare Il cartone Del box Quindi Vi faccio vedere Però che figata Che è Perché è fatto A forma di libro Che tiene dentro E infine il mozzo Poi vabbè Non sarà Più bello Di Nightmare Però comunque C'è Nightmare Ragazzi Questo da avere Da tenere Quindi questo qua Poi mi tolgo Tutto il coso The Dream Child Questo qua Appena ho introdotto Il mito Ma Comunque Insomma Questi qua Sono i film Che ho trovato 5 film Praticamente Li ho pagati 8 euro Qualcosa Insomma 9 euro Quindi 1 euro E 90 Allora ragazzi Se i film li avete visti E Uno Se mi volete dire Che mi hanno fregato Li ho pagati troppo Ma non credo Scrivetemelo nei commenti Se li avete visti Scrivetemi nei commenti Cosa ne pensate Se valeva la pena Spendere almeno 1 euro e 90 Io veramente Cioè ragazzi Se trovo A 1 euro 1 euro e 90 2 euro Un film Horror Anche che fa cagare Me lo prendo Perché Dai ci sta Comunque È una sorta di Affezione Nei confronti Dell'horror Allora Se questa rubrica Che io oggi chiamerò Mercatini horror Vi piace Mettete like Al video Così se arriviamo A un numero decente Di like Che non so Quale potrebbe essere Perché Non è che io Ho tanti like Farò un'altra puntata Anzi Andrò proprio in missione A cercare altri Proprio Mi sposterò Andrò in giro Per Insomma Il sud di Milano Cercherò di stare Qua in zona Ci sono un sacco Di posti Dove andare a cercare E andrò a fare L'horror hunter Diciamo Il cercatore di film Dell'orrore Ha pochissimo Perché Pagarli tanto Si trovano ovunque Quindi Mettete like Mi raccomando Scrivete nei commenti Se avete visto i film Ci vediamo Al prossimo video